Il particolare ringraziamento va ai Presidenti della Roma che hanno avuto fiducia in me, mi hanno trattenuto e dato questa possibilità di lavorare per mezzo secolo per la Roma, cosa che a me mi riempie di orgoglio e di soddisfazione e di tanto affetto tra tutti i dipendenti della Roma, vicini e lontani, dovrei citare fra i tanti amici giocatori, sono centinaia che ho conosciuto, però li saluto tutti con tanto affetto perché ho voluto a tutti tanto bene.